Torce elettriche in mano e via per quasi due chilometri e mezzo e questa è la seconda edizione della Lucciolata di Rosà in programma per domani sabato 25 maggio alle 20.45 con ritrovo al quartiere oratorio l'arrivo sarà alla zona stadio l'iscrizione a offerta libera raccoglierà fondi per la gestione della casa via di Natale intitolata Franco Gallini ad Aviano retta nel 1996 abbiamo avuto 600 adesioni con un importo di 2.950 euro che abbiamo dato a casa via di Natale e dopo un sponsor ha fatto 7.500 euro lo stesso signor Claudio è stato ospite della casa hospice una quindicina di giorni lo scorso anno ho mandato cosa che mi prende per 15 giorni e mi ha mandato 100 euro ho mandato i demati perché loro vivono solo con le opere qua e allora tutti a Rosà per quella passeggiata suggestiva la Lucciolata che fa del bene a se stessi e agli altri